a 1.321 che io inizio a registrare il problema è che c'ho un pirla davanti questo qua due pirla davanti no è sparito un pirla è sparito un pirla voilà buonasera a tutti e benvenuti ma io saluto quando imparano ma che vi dico tu starta tu starta non sgarri mai così questo ce lo metti vero io ce lo metto questo va bene buonasera a tutti e benvenuti bentornati in un nuovissimo video su minecraft insieme a questo coso qua coi baffi questo coso coi baffi si chiama mamid qualcuno di voi già mi conosce no non lo so qualcuno lo conosce alcuno lo sa ok ora è finito di monopolizzare la videocamera posso farlo anch'io il mio inizio faccia come vuole lei io son qua per guardare che cavolo che c'ho una pecora qua sulla spalla che me la sento un attimo un pochino a tutti i squali i pesciolini sono mamidi di day d'idea chucks e benvenuti in questo nuovo episodio su minecraft si ebbene si stiamo ritornando su minecraft e david si è sparita la pecora e avevo notato e stint si sono estinte le pecore abbiamo capito ho avuto una perdita di gas cos'è che hai avuto una perdita di gas che si è mangiato l'hai fatto decollare si è sparita la pecora come prima te sei decollato laggiù lontano tipo così si pronto ok vabbè sto video sta cominciando malissimo come tutti facciamo insieme ti prendo ti prendo sono già aterrato da un'ora quindi ti prendi tra un'ora senti una cosa spiegare un attimo che cosa stiamo facendo su questi video ma come si fa a spiegare con uno che saltella come un leprotto cioè come si fa vabbè siamo qua perchè vogliamo le proporvi un'altra cosa sulla pixelmon ovvero l'avventura se non sbaglio era pokemon rubino se non sbaglio la regione di hoan rubino non lo so non mi ricordo non mi ricordo ragazzi scrivetelo nei commenti in quale pokemon è stato introdotto hoan perchè voi sicuramente siete super esperti e mi costringete a fare i pokemon sul canale e io sto imparando i pokemon da voi io sono ignorante quindi comunque qualsiasi cosa sia quello che prendi passamelo dopo perchè voglio provarlo senti la compravo dal vgf aaaaaaah capito eh si da lì tutto collegato io ho una palla di neve qua cominciamo a far qualcosa ok ma si può comprare anche roba uuuuh big molly ok coi money presenti i money big money 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 presenti i money quelli che non abbiamo ecco infatti io sono entrato nel server eh aspetta con con camera per piacere con camera per piacere con camera per piacere spero di aver cercato il server perchè io sbaglio di solito sbaglio in ste cose che sembra da aver sbagliato eh davidz devi leggere hoan non è difficile ok quello giusto quello giusto ok in teoria siamo dentro io sono dentro devo scegliermi lo starter eh vizzi per lo starter non me lo fa scegliere cioè non me lo fa scegliere però eh sei scarso tu ok perchè io so dire che ero già entrato per nasare per vedere se era quello giusto l'ho già scelto eh io sono una brava persona mio starter è questo ciao ok l'ho scelto ma che porco ma sei un porco ma che schifo ma è bellissimo ma fa schifo ma cosa ma guarda il mio è un porco il mio farebbe schifo scusa troppo se lo mangia guarda la differenza troppo se lo mangia guarda c'hai uno squirtle sul culo la capo neanche tutto lo squirtle la capoccia di squirtle vabbè squirtle conquistere quel mondo cos'è che farà il mondo delle pulci conquisterà sto coso no aspetta e questa sarebbe nostra madre ah perchè è un peluche non lo so ma è uno sguardo inquietante io per quello ho preso squirtle ho capito ma mamma lo squirtle brutta questa brutta no cioè aspetta ah è vero noi eravamo su un camion ma che ca... ma 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 what is this ma what the fuck qui si parlava di lavoro in nero ma cos'è esageriamo eh infatti questo mi sembra un lavoro in grigio ehm va bene ok tutto regolare ok mi va bene la cosa ok credo che dobbiamo cliccare su madre credo boh senti qua c'è una cosa che lampeggia penso che ho in info ecco vai non facciamo come il cavolo della serie di quella merda di grinch che devo tradurre i peggio cartelli eh se mi hai chiamato a fare una cosa del genere ti ammazzo no no tranquillo no no tranquillo tranquillo allora il server è ancora in beta per favore segnalaci tutti i bug e i glitch tu lo farai vogliamo sfruttare certo che no tutte le informazioni su come giocare sono nella info hall tu davis dov'è la info hall io ho la quest lu il server ah il server ha anche il comando slash mymenu che figo cosa potrò mai fare con il mymenu potrò andare a vedere tutti i comandi tutte le aste le aste è figo ah si per comprare i pokemon no lo shop l'rc online store e il voto ok io non voglio votare io sto server lo odio io non voglio votare senti io sono andata a votare il 4 dicembre ma poi basta cioè insomma ricordati il voto è segreto eh ah infatti che poi a me me l'hai detto comunque non si possono catturare i pixel fuori dalla battaglia non si possono lanciare le pokeball quindi bravissimo quindi non puoi tirare le palle no ma se le ho lanciate fino adesso non puoi tirarle lanciarle si ah scusa eeeh detto questo devi essere in battaglia per catturare i pixel mode hai capito barbone disse quello coi baffi fusi alla lingua ahahah dai veramente dobbiamo parlare con mamma cos'è sta cosa i baffi fusi alla lingua non lo vedi che c'è la lingua fusi ai baffi ok mamma che cazzo vuoi questa è la città di Little Root come ti senti? come va? se viaggio faceva schifo questa è come sull'elettro camion lì così un po' freschino vabbè ah se stai per morire usa slash feed oppure se hai bisogno di equipaggiamento usa slash kids ah questo l'ho detto la madre sempre sì mia madre l'ha detto l'angolo ti sciupi ti do la parmigiana la cotolette capito? quindi mia madre si chiama broadcast o di? no rc è il cognome ah ok e quindi noi di cognome facciamo rc eeeh tu fai rc io ho fatto crc se siamo i figli di broadcast allora vedi che se fai slash kids c'è il daily ball solo vedi che c'è il kit palle vedi che c'è eh infatti due palle giornaliere te le puoi fare tranquillamente qui ah eeeh vedi siamo degli dolcetti abbiamo anche le caramelle aspetta aspetta ha detto che dobbiamo andare in casa in camera nostra eh ah quando l'ha detto scusa leggi bene la chat lo stai mica detto lo stai mica detto ah si ok vabbè 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 hai ragione che abbiamo in casa oh che cosa succede? ma si è teletrasportata no ci stanno due mamme allora qual è la tua? eh ma facciamo io mi prenotto questa in casa tu senti quella fuori no mi va benissimo perché penso che quello sia tuo padre oh c'è anche quello che guidava la macchina fuori c'è entrato dentro anche lui si ma non è che è lui il padre di tutti aspetta lì c'è il fratello del padre ma che cazzo che cazzo di casino è qua ma che mamma ma che facevi in orgia no facciamo domande no fai domande ok vedi mamme non è bello carino qui grazie con due macho perché ti tengo ok voglio dire che carino questo macho i moreover pixel non dual the world ah ok praticamente i moreover pixel non sarebbero i due machop fanno tutto il lavoro questo è così conveniente grazie certo la nostra stanza è su andiamo a vedere che cosa succede mamme c'è una testa del professor watcher no c'è proprio una testa per terra cos'è oh cazzo perché abbiamo una testa di una persona sul pavimento mi sa che questo server ci ha fatto perdere la testa eh ragazzi lo sto facendo veramente brutto nooo seriamente oh aspetta voglio votare vot vot no voglio andare sui serrano bisogna andare c'è nei siti buonanotte ma mi pesa il tour iiii c'è un job possiamo prenderci il job dove ah si jobs si no aspetta sto capendo allora il i job offrono dei reward figli tipo anche i leggendari who's slash jobs to play a free ancient for your tools non funziona perchè non funziona jobs jobs un command type c'è l'inizio dell'avventura parte bene ok perfetto cioè ma queste porte si chiudono da sole si chiudono da sole si chiudono da sole non è figo non capito oh non si chiudono hanno inventato come si chiama le porte automatiche tipo quelle dei supermercati ah no guarda ci sono le presuppretti invisibili guarda sotto ah ok combatto oh sto combattendo con mud keep che è è shiny mud keep shiny oddio perchè sta cosa non lo so hai scritto sim in chat eh si sono anche io in combattimento ma io sto combattendo contro tipo terra acqua ed io tipo fuoco sono nella merda il mio scritto sta prendendo le peggio mazzate come c'è il futuro mod mod keep livello 5 shiny cioè fammi capire ma penso che non lo puoi catturare puoi catturarlo come no ma è sicuro siamo in dici eh si e beh provo il massimo ti dice che non puoi eh oppure mi fa sprecare le pokeball no no provo eh no vedi mi dice che non sepole non si può non sepoli oh voglio vorremmo di che ti sai non sepoli è solo un allenamento ah ma tu questi sono tipo gli allenatori fatti così ma ha fatto il culo ma ha fatto il culo cioè ma ha fatto il culo vorrei mica dire eh bravo bravo davis sta mafia davis non è colpa mia se io prendo gli squirtle nani però almeno gli faccio il culo ai pokemon eh vorrei che squirtle ha anche detto il pokemon schizzo vabbè stendiamo un velo pietoso quindi è piccolino c'è il guscio che si intuisce e ok andiamo avanti sto per morire sto per morire no squirtle no 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 guardalo guardalo come in crisi guardalo nooo è morto nooo è morto squirtle di merda sto facendo già lo sforone io stai a essere sincero ci godo un po' scusa mamid mi hanno combattuto contro uno al cinque e noi siamo ci non avevamo due caramelle rare shhh non lo dire su youtube no 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 tientelo per te tientelo per te tientelo per te ho fatto un caso adesso come cazzo si usano queste caramelle? evochi il pokemon e ieri dai e poi gliele spiace chi fa squirtle è talmente piccolo è fuori come cazzo è uscito tranquillo adesso tengo d'occhio sto nano da giardino che voglio vedere che fine fa tranquillo oh lele oh la la e faccela e faccela oh lele disse il pokemon schizzo comunque no ogni riferimento puramente sessuale è puramente casuale è puramente fatto apposta invece quello è bello si professor birch e vai farlo ma si chiama come l'albero si i birch oh ciao oh l'assistante il catch reward troppe con troppe dobbiamo uccidere no dobbiamo catturare 25 pokemon e qua ci danno un reward ah si? si oppure possiamo andare nelle warpa arena e e cominciare a fare delle battaglie e vinciamo degli reward epici una cosa una cosa cosa ce ne facciamo non lo so ma questo ce la faccio del pirla importante avercele alla bocca più grosso della tua comunque è la casa di mei cosa è sua? questa mei house ok ok casa di mei andiamo questa è la madre più normale però della nostra scusa sembra lì c'è nel paese delle meraviglie sembra scusa signora mamma strana perché cosa mi dice? non guardi nostra madre perché è un po' blu sembra quella dei mappet sembra c'è il mei no 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 ah ma è una femmina oh carina tra l'altro ciao mei ciao oddio anche lei ha una testa sul pavimento perché hanno tutti una testa sul pavimento? ma va di moda qui non lo so ma non fa venire i primiti dove sta? la ah ecco no ma credo che non no è si può catturare wild? no clicca sul tasto destro arf 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 c'è il sito del pokemon funziona? no sul percorso 109 è illuminato madonna qui una potatina no eh c'è qui non passano pure le strade no qua non ci stanno i giardinieri un pikachu pikachu si 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 grazie mio grazie mio 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 no 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 dove cosa vuoi lei? no sei infilato la sotto maledizione no no pikachu io voglio io io voglio che te il pirla prenditi il pirla oh ratata vieni il pikachu ma va cagare sto pikachu maledetto io ne ho trovato uno al 9 papapero si ma io non posso catturare un pikachu al 9 con uno squirtle e tu sei furbo poi eh io ci provo no c'è pure lo squirtle a metà vita e non l'hai curato quando sei andato a farlo sedito no ma dai mi prendi la minchia sta per volire di nuovo il squirtle dov'è che... no dai ma te ti ostini affrontare un tipo elettro con un tipo acqua? dai ti ostini ancora? si in cina sei andato a catturarlo mi prego falli nooo ho perso ma nooo questo è il pokemon più potente di tutti oh si il verme dannazione ho fallito di nuovo il pikachu dai ma sei scarso te sei scarso li trovo in giro ma pikachu non mi fa far figura di merda mi ha già ucciso due volte per piacere io conto già la terza non vorrei io conto già la terza ok io inizio io inizio dino pokeball mi fa far figure brutte 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 eh no maledetto hai preso il pikachu eh ho preso si l'ho preso si schiatta schiatta io ho catturato una volta ci ho messo per catturarlo te quante volte vai a quel paese vai a quel paese te 40 anni ci hai messo per catturarlo ma intanto c'ho il pikachu senza che lo pago duemila dollari da te perchè l'ho catturato e paga duemila dollari no però tu me lo vuoi vendere a duemila perchè da te io volevo vendere a duemila ah ma l'hai detto gus 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 還有 a king se da io catturerei anche il pigi a sto punto dove corri pigi non te ne andrà nell'erbalta no sei scarso guarda è su all'arancione guardalo lì guardalo come gli fa il culo guardalo come gli fa il culo lo batte lo batte ecco o lo shot in te o lo shot a lui l'ha shotato lo sapevo avevo detto lo shot in te o lo shot lui l'avevo detto la piuma tu non ce l'hai che me ne faccio se non la piuma puoi dire sto potenzialmente di hp al mio te pic ma che cazzo oh pikachu di merda che sei venuto stavo dando il mio hp al mio pokemon pikachu di merda ma cosa perchè c'è un allenatore nel è morto dici che è morto e non si è pelli e beh che poi se scusami un attimo perchè si torna indietro 40 volte a curarti il pokemon perchè c'è un centro pokemon qua cioè vorrei dire e vabbè ma comunque devo andare da qualche parte aspetta qua c'è dove cavolo sta oddio genio delle tartarughe è vero il dragon ball hanno preso questo non è questo non è questo allora cerchiamo il 109 credo che sia da destra da quella parte credo che sia eh si proviamo quella a sinistra io lo considero dall'altro lato vedo qualcuno in piedi vedete i piedi c'è non c'è scritto che percorso che cosa è sto posto oh i need to talk to mamma before i leave on my adventure ha nominato nostra madre ma non è che andiamo a parlare con mamma no prima andiamo a battere questa qui prima allora prima andiamo a parlare con la nostra madre poi dopo no prima andiamo a battere questa qua poi a parlare con la nostra madre è la dell'erbalta però è la quella dell'erbalta anche che caos è contro gli arcanai nel mio squirtolo è utile perchè il tuo squirtolo è inutile inutile perchè è inutile ma che schifo e gli faccio super efficace ma che razza di pokemon mi è capitato te l'ho detto è inutile comunque prova a catturarlo eh ho vinto lei ma porco sono andato il combattimento anch'io ma porco è una becca a terpirla me l'ho sciotta eh direi proprio di si allora c'ho l'arcanine a vita rossa cattura posso catturarlo eh si ti prego ti prego ti prego entra nella pokeball ti prego che voglio l'arcanine no l'arcanine non è cosa è successo non mi è entrato mi sta uccidendo lo squirtolo ma mi ha finito la battaglia senza fare un cazzo eh si se ne è scappato forse eh ho ti ucciso tutti no no ho ancora pikachu che non l'ho mai detto in campo ah buono ti prego cavolo è arcana niente sta cavolo di pokeball non ce la fa non ce la fa non ce la fa non ce la fa arcanine c'ho l'arcanine nel figo ma qui c'è anche una master ball scusi me la può dare si toglie davanti alle palle gentilmente no sei bucato nella pokeball ma va cagare arcanine ragazzi mi dispiace ma a me non l'abbiamo trovata nel prossimo episodio se volete questa serie scrivetecelo nei commenti lasciate un like commentate condividete ma soprattutto passate anche dal canale di davids non passate da quello di mamid che non sarà in descrizione sei tanto non verrà mai nei video consigliati no neanche quindi veramente non ci sarà mai possibile nel mondo forever comunque se volete vedere ancora questa avventura con me e davids protagonisti che cerchiamo di finire la regione di hoen su questo server mmm spalliciate insomma fateci capire se vi piace esattamente faccio capire utilizzerò la tecnica che c'è il modo di fare che utilizzo anche negli altri miei video di arc quindi scrivetemi nei commenti allora vi lancio tre hashtag così nomino i miei pokemon con i vostri nomi allora per squirtle mi scrivete hashtag testa tonda per pikachu mi scrivete hashtag cornuto e per arcanine mi scrivete hashtag cane rabbioso perchè pikachu cornuto perchè non si faceva catturare allora è un cornuto e che è si si ma poverino certo ma se siete arrivati fin qui lasciate un like commentate condividete ma soprattutto scrivete nei commenti hashtag davids puzza hashtag davids puzza si aspetta una luce a casa tua no qua ah e per forza è diventata norte ah che bello mi raccomando ciao a tutti ciao alla prossima e ricordatevi che i baffi di mammy sono fusi alla sua lingua ve lo ricordate possiamo dire che è finita ale finita buona pasqua buon anno buona nuca buona baffata buona baffata pan buona da Grazie per la visione!